Triduo a San Giovanni Battista San Giovanni, il profeta che annunciò a Cristo già nel grembo materno, è uno dei santi più venerati al mondo. La Chiesa lo festeggia come la Vergine Maria anche nel giorno della sua nascita. La sua vocazione profetica si manifestò ancora prima di nascere attraverso segni messianici come l'esultanza davanti a Maria in visita alla cugina Elisabetta e Cristo stesso lo definì il più grande tra i nati da donna. Il 29 agosto la Chiesa celebra il martirio di San Giovanni quando venne decapitato per ordine di Salomé, figlia di Erodiade. Questo Triduo a San Giovanni Battista, in memoria della sua gloriosa morte, va recitato per tre giorni di seguito, dal 26 al 28 di agosto, che anticipa il giorno della sua memoria, oppure può essere recitato ogni volta che si vuole pregare San Giovanni Battista per qualsiasi grazia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Giovanni Battista, che tra i nati di donna fosti il profeta più grande, benché santificato fin dal seno materno, Tu volesti ritirarti nel deserto per dedicarti alla preghiera e alla penitenza. Ottienici dal Signore il distacco da ogni ideale terreno per avviarci verso il raccoglimento del dialogo con Dio e la mortificazione delle passioni. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O zelantissimo precursore di Gesù, che pur senza operare alcun miracolo, attirasti a te le folle per prepararle ad accogliere il Messia e ad ascoltare le sue parole di vita eterna, ottienici la docilità alle ispirazioni del Signore, in modo che con la testimonianza della nostra vita possiamo condurre le anime a Dio, quelle soprattutto che hanno più bisogno della sua misericordia. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O martire invitto, che per la fedeltà della legge di Dio e per la santità del matrimonio ti opponesti ad esempi di vita dissoluti a costo della tua libertà e della tua vita. Ottienici da Dio una volontà forte e generosa affinché, vincendo ogni umano timore, osserviamo la legge di Dio, professiamo apertamente la fede e seguiamo gli insegnamenti del Maestro Divino e della Sua Santa Chiesa. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Padre, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sulla via della salvezza e della pace. Per Cristo, nostro Signore. Amen. San Giovanni Battista prega per noi che ne abbiamo urgente bisogno. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non. No. Non. 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 Grazie a tutti.